La filosofia La filosofia di Dondapp, mi piace il mondo di Dondapp, io penso di essere stata una delle primissime a indossare i loro capi un po' di anni fa quando mi presentarono i loro jeans, io li ho ancora tutti, le primissime edizioni e ricordo che quando vidi questi jeans e li indossai, li provai per la prima volta e dissi spaccheranno e così fu. Mi piace la moda casual che fanno, mi piacciono i jeans ma anche le giacche, lo stile un po' militare che loro hanno, da sempre mi piace. Loro riescono a creare la donna, riescono a fare un look super sportivo ma anche uno sportivo più chic e quindi con loro ti puoi vestire per molte occasioni diverse, dal giorno ma anche la sera. La cosa che prediligo però di più sono i jeans e le giacche, sono proprio veramente pazzeschi. Tipo questa è l'ora, sono proprio mie, le sento, secondo me le fanno proprio per me, no non è vero, scherzo. E' un'ora, sono proprio mie. Grazie a tutti